Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Piave TV che parla dei problemi della salute nel nostro territorio. Oggi parleremo di un argomento sicuramente che interessa moltissimo e non solo le donne come si pensa. Abbiamo qui il professor di donna che voi già conoscete, che è un professore molto noto in Italia ma anche all'estero per le sue idee di medicina e chirurgia resinerativa, ma oggi ci parlerà visto che lui è un chirurgo vascolare del problema dell'insufficienza venosa. Cos'è e quali sono le conseguenze o i danni? Salve a tutti, un ringraziamento a Piave TV e all'amico Paolo per l'invito. Insufficienza venosa, l'insufficienza venosa cronica oggi è una malattia sociale, è legata al nostro stile di vita, alle nostre abitudini anche alimentari, ma al nostro modo di stare in piedi, seduti e alla nostra sedentarità. L'insufficienza venosa non è solo vene varicose, va bene? Per cui ecco il primo messaggio è che la cura di questa malattia sociale che deve essere curata all'inizio della sua evoluzione è legata al fatto che i danni dell'insufficienza venosa sono quelli che avremo in età avanzata, in vecchiaia, per cui per la serie prevenire è meglio che curare. Il compito del chirurgo vascolare è curare le vene. Come? Oggi, ecco, rispetto agli interventi demolitivi di una volta, di stripping, di sfilare le vene, anche di obliterarle, noi dobbiamo anche lì rigenerare le nostre vene, andando a riequilibrare in primis quello che è l'emodinamica, vuol dire il gioco delle pressioni e quello che sono i vari flussi, come attraverso una terapia in primis e l'asso complessiva, lì dove ci vuole per chi ha un'attività appunto di sedentarità, andare a studiare la debolezza delle nostre vene. Abbiamo la possibilità oggi di metodiche mininvasive molto complianti per il paziente, oltre alla classica scleroterapia, la scleromusso, oggi abbiamo anche la trap therapy, trap sapeterapia, rigenerativa ambuliare delle nostre vene. Tutto questo per prevenire due eventi, uno è l'evento trombotico, cioè quando il sangue coagula nelle nostre vene, che poi, se interessa il circolo venoso, può portare all'embolia polmonare, che è una delle cause importanti di mortalità anche ospedaliere. Il caso successivo di quello che può essere anche solo la tromboflebite, ma quell'altra invece è molto più pericolosa. Infatti, assolutamente, l'altra invece è grossa prevenzione per le nostre ulcere flebologiche, che sono sempre più comuni, che poi richiedono un menaggio per una gestione complicata, che oltre alla correzione emodinamica, per fortuna oggi abbiamo tutta una serie anche di apparecchiature, di mezzi per la medicina rigenerativa, che ci permette di ristabilire le nostre ulcere. Certo. Ecco, quindi avete capito che l'insuenza venosa è frequentissima. Una delle cause principali è data da noi, che magari andiamo a prendere giornali in macchina invece di andare a piedi. Questo è importante. Almeno 30 minuti di camminata al giorno è l'elisir della cura delle nostre ulteriori. Quindi importante, come abbiamo sempre detto, e lui è sempre stato vicino a me in questo tipo di filosofia, prevenzione. Prevenzione. Ecco, ringraziamo il professor Redonna, che voi sapete comincerà a collaborare con noi in maniera più stretta e quindi lo rivedremo sicuramente in un futuro. Grazie a tutti.